Buon pomeriggio e bentornati in diretta per l'appuntamento con Primo Cittadino. Oggi ci dedichiamo al Comune di Cagli insieme al suo sindaco Alberto Alessandri. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti gli amici di Fanno TV. Partiamo dal maltempo perché in questo fine settimana, sabato mattina soprattutto, le forti raffiche hanno provocato danni in tutta la regione Marche. Nel vostro territorio hanno provocato danni o quantomeno guassi alla rete elettrica? Abbiamo avuto i nostri... sì, ti dirò, quest'ultimo weekend anche un pochino di meno rispetto all'ondata precedente e qualche guasto, sì, però sarà che noi forse siamo abituati. Il vento purtroppo è un compagno di viaggio frequente nella nostra cittadina, quindi insomma siamo abbastanza abituati. Abbiamo avuto qualche problema più rilevante in una struttura, quella che ospita il tennis. All'inizio sembravano dei danni abbastanza ingenti, invece insomma i stessi soci, i dirigenti della società sono riusciti in economia a rimettere a posto parecchio, quindi credo che alla fine il danno sia di pochi migliaia d'euro, diciamo superabile in brevissimo tempo. Passiamo ora all'ampio capitolo dei lavori pubblici. State predisponendo il bilancio 2024, investimenti importanti anche ad esempio per quanto riguarda la manutenzione delle strade. Sì, abbiamo sempre detto che dobbiamo esaltare il nostro territorio, ma è chiaro che per esaltarlo bisogna essere pronti anche a ricevere, innanzitutto star bene noi, quelli che abitano nella nostra città, e poi essere pronti ad ospitare anche chi viene da fuori, quindi le strade sono una cosa fondamentale in questo percorso. Ci stiamo lavorando con molta attenzione, sia quelle comunemente asfaltate, sia quelle di breccia, perché ne abbiamo veramente tante fra tutte e due. Insomma, siamo un comune purtroppo noto per questo alto indice appunto di strade che abbiamo e nei nostri programmi sia presenti, sia del recente passato e soprattutto in quelli futuri, quindi le strade hanno un ruolo importantissimo. Avete già investito tante risorse, soprattutto negli ultimi anni. Sì, diverse risorse, quest'anno abbiamo sfiorato credo solo sulle strade, fra breccia e asfalti attorno ai 2 milioni d'euro, e contiamo insomma anche per l'anno prossimo di riproporre la stessa cifra, perché dobbiamo appunto insomma avere tutto il territorio ben coperto, ci sono rimasti indietro alcune frazioni e vogliamo pareggiare i conti per dare dignità a tutti allo stesso modo, però parallelamente chiaramente oltre questo abbiamo tanto altro, stiamo portando avanti tante altre iniziative infrastrutturali importanti per la nostra città e per il nostro territorio. Interventi che vengono seguiti logicamente anche dall'ufficio tecnico che ha subito un turnover, quindi un personale anche rinnovato. Abbiamo causa pensionamento, abbiamo appunto approfittato di questa fase per anche diciamo dare una svolta attuale a quelle che sono le esigenze di un ufficio tecnico, che chiaramente non sono le stesse di 10 o 20 o 30 anni fa e quindi abbiamo messo a capo di un ufficio tecnico un architetto, abbiamo potenziato con, insomma siamo arrivati ad avere adesso 4 geometri, poi credo che la settimana prossima, non credo, sono sicuro, la settimana prossima abbiamo un concorso e prenderemo un altro dipendente sempre destinato all'ufficio tecnico, quando parlo di ufficio tecnico parlo sia di lavori pubblici che di urbanistica, ambiente, un po' di tutto, quindi è un ampio settore e l'abbiamo rinnovato, l'abbiamo potenziato anche con degli amministrativi ma non ci fermeremo qui perché insomma la risposta che deve dare l'ufficio tecnico è vastissima, è importantissima ed è quella che insomma fa la differenza quindi avanti su questo investimento. Passiamo alle scuole perché anche qua ci sono tanti interventi di cui parlare partiamo da quello della provincia che riguarda un istituto superiore. Sì, la provincia è proprietaria insomma del, come sapete, del nostro istituto superiore e hanno iniziato qualche mese fa, ha iniziato i lavori di una nuova palestra siamo molto felici perché insomma è stata una, è un percorso iniziato apro una parentesi, non vorrei essere, ecco, così, rattristare nessuno ma è un'iniziativa che è partita da me e dall'ex presidente della provincia Daniele Tagliolini, ci tengo molto che vada a buon fine e quindi spero che anche, e sono convinto che insomma la provincia quella attuale renda onore alla sua memoria anche attraverso questa opera che lui ha voluto e quindi ecco siamo molto felici di questo i lavori anche per via del PNRR, sai, già correre quindi saranno velocissimi e anche il Comune di Cagli farà la sua parte perché insomma cercheremo di abbellirla e di dare il massimo anche attraverso la creazione di alcuni parcheggi insomma perché poi, come consuetudine della provincia, i pomeriggi saranno liberi e saranno ad uso, i locali saranno ad uso delle società sportive del nostro territorio quindi insomma faremo anche noi la nostra parte. Si parla anche di dimensionamento scolastico con la perdita nella nostra provincia di quattro dirigenti, qual è la situazione a Cagli? Allora sì, è vero e a Cagli, ma più che Cagli parlerei della nostra Unione Montana abbiamo tra virgolette approfittato di questo momento, di questa richiesta che proveniva dalla provincia, dall'istituto appunto provinciale scolastico e di istruzione e insomma abbiamo fatto la nostra, ci sono state una serie di iniziative una serie di proposte da parte della regione, della provincia e noi abbiamo fatto la nostra che credo un mercoledì andrà a consiglio provinciale che è quella di fare un omnicomprensivo siamo convinti che questo è praticamente un omnicomprensivo con i due istituti che ci sono nella nostra città di Cagli, uno racchiude la scuola materna, le elementari e le medie l'altro è un istituto superiore con tre indirizzi. Abbiamo chiesto di accorpare in maniera tale da creare una sorta di grande famiglia con numeri abbordabili perché parliamo attorno ai 1050-1070 alunni lo facciamo con un'unica dirigenza, la differenza è quella, però sappiamo che purtroppo a settembre perderemo il nostro dirigente storico Edoardo Virgili dell'istituto Michelini Tocci elementari, media e materna e quindi insomma la cosa sarà un po' meno indolore perché appunto perdendo lui, insomma senza che venga nessun altro ci affideremo al dirigente dell'istituto superiore credo, quest'anno abbiamo finalmente un dirigente tutto nostro, molto preparato io ho avuto occasione di frequentarlo in queste giornate, prime giornate, molto disponibile credo che insomma insieme riusciremo a fare un bel percorso, appunto creare questa famiglia che possa prendere al ragazzo da piccolissimo e condurlo, quindi conoscerlo credo anche sfruttare tutte le sue doti fino a portarla appunto alla maggiorità e alla maturità insomma quindi è un percorso che secondo me dovrà essere preso anche da esempio in tutte le aree montane, tutte le zone simili alle nostre perché credo che sia nel rispetto di quello che chiede lo Stato e sia anche il modo migliore per mantenere un'alta, una qualità della formazione scolastica elevata. Un altro intervento importante perché a metà ottobre sono iniziati i lavori di smontaggio dell'edificio che ospita l'asilo nido e ne verrà costruito uno nuovo, quindi una nuova struttura. Sì, abbiamo vinto tempo fa questo bando che parlava di appunto di demolizione del vecchio edificio con ricostruzione in loco e quindi abbiamo il nido il 20 dicembre, la società andrà a firmare insomma il contratto, quindi a quel punto inizio lavori. Siamo molto contenti perché ci sarà chiaramente attraverso questo finanziamento aumenteranno anche i posti disponibili e quindi daremo una risposta ancora più importante per il territorio, io dico territorio in questo caso perché insieme a Cagli ne usufruiranno anche i bambini di Cantiano che sono collegati al nostro, quindi siamo molto felici anche di questo progetto che è stato molto veloce questo, a dire la verità, dal momento della giudicazione e tutto perché anche qui bisogna correre, la ditta dovrà consegnare i lavori entro dicembre dell'anno prossimo, quindi abbiamo un anno a disposizione, da un punto di vista ti fa star male, non ti fa dormire la notte tutta questa fretta, dall'altra ti rende felice perché spesso ci sono altri progetti invece che vanno molto per le lunghe, per noi amministratori insomma dare delle risposte così immediate è bello. Certo, poi immagino che essendo una nuova struttura sia sostenibile, moderna, insomma tecnologica quindi si riparte proprio... Insomma chi ha visto il progetto è una figata, quando si dice questo insomma vuol dire che è moderno, che è chiaramente sostenibile anche perché è calato in una realtà vicino alle mura storiche, vicino a una delle porte d'accesso a Cagli, quindi con dei monumenti importanti vicino alla torre martiniana e quindi deve rispettare certe logiche e in questo l'abbiamo inserito. Tra l'altro un servizio sempre più richiesto dalle famiglie, insomma in generale non so se anche a Cagli. Sì, sì, abbiamo tante richieste e quindi insomma siamo contenti, sì, assolutamente. Speriamo anche che possa essere di stimolo a fermarsi a Cagli e a riprendere quella sana abitudine a fare figli. Passiamo invece alla sanità. Sanità è un altro tema importantissimo, è stato presentato il progetto per la nuova struttura sanitaria che ospiterà casa di comunità e ospedale di comunità, anche qui una struttura bella, ampia, con tanti servizi e insomma credo che il territorio possa essere soddisfatto dal piano sociosanitario o ci sono anche altri dettagli che vi preoccupano? Guarda, da un punto di vista dell'infrastruttura c'è solo da dire grazie, altre parole non ci sono perché insomma pensare ai nostri territori, pensare alla struttura di riferimento di Cagli è molto importante, vuol dire che c'è una controtendenza e questo già ci riempie di gioia, quindi va dato adito alla regione, nella fattispecie all'assessore all'infrastruttura Baldelli, Francesco, insomma ad aver pensato a questa nuova struttura per il nostro territorio. Chiaramente adesso la palla passa all'altro assessore, all'assessore Salta Martini che è titolare della cattedra della sanità e che dovrà riempire di servizi la nostra struttura, ma abbiamo avuto già un paio di incontri anche con lui, si è reso disponibilissimo sia lui che la dottoressa di Furia che è insomma capo della nostra AST e hanno fatto una prima bozza di interventi dove già sono previsti di passare dai 17 ambulatori, servizi che sono adesso, arricchirlo fino a 25, ma non si parla solo di quello, si parla anche di poter avere dei piccoli, degli interventi in loco appunto per quello che riguarda, tra parentesi, quello che è un vecchio appunto di primo intervento per intenderci dove almeno alcune tipologie potranno insomma di appunto di primo intervento potranno essere applicate immediatamente in loco in maniera tale da impedire il solito purtroppo intasamento che c'è nei pronto soccorsi di Urbino o che sia di Fano e quindi insomma la cosa va sempre tenuta chiaramente sotto osservazione perché poi ci sono dei problemi a livello nazionale, sappiamo la carezza dei medici, sappiamo la carezza degli infermieri e quant'altro quindi insomma a volte anche da, non dipende proprio sempre sempre da, insomma dal comune o dalla provincia o dalla regione, a volte insomma ecco i problemi nascono anche molto da più in alto, però insomma abbiamo avuto parecchie rassicurazioni, quella giunta regionale ha lottato in campagna elettorale puntando molto su questo e per adesso stanno mantenendo quanto detto e questo ci riempie di gioia. Dove sorgerà la struttura? Sorgerà per chi viene da Fano, da Pesaro, nell'uscita della Flaminia, c'è una grande rotatoria e lì si accederà a questa struttura sanitaria e siamo molto contenti della scelta che abbiamo anche insomma in parte io stesso insomma così in qualche modo lanciato perché c'è vicino l'elisoccorso che è molto importante e in una zona ampia soprattutto in una zona dove sempre a detta della regione dovrebbe insomma presto essere terminata un'infrastruttura stradale la Pedemontana che quindi collegherebbe Cagli alla zona di Fruntone, Serra Sant'Abbondio Sassoferrato quindi ecco anche facilmente accessibile sia per chi viene quindi da Qualagna dalle zone di là sia chi viene da Cantiano perché è sempre in questa strada principale e poi anche dall'altra zona e quindi in un punto strategico secondo noi giusto poi anche con possibilità intorno di ampliarsi. E si spera poi possa essere anche promossa l'emergenza urgenza quindi cioè questo servizio su quale bisogna puntare la comunità di Cagli insomma ci spera? Sì ci speriamo molto perché per la millesima volta sapete della vastità del nostro territorio quindi abbiamo famiglie sparse in 226 km quadrati di territorio e quindi avere l'emergenza urgenza che funziona è la cosa potenziata. Sì 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 assolutamente lo dico sempre bisogna insomma ecco stabilizzare il prima possibile il paziente poi dopo quando è stabilizzato insomma che si arrivi a Fanno si arrivi a Pesaro con l'elicottero si arriva ovunque velocissimamente quello non è un problema l'importante è arrivare in tempo i primi minuti critici. Ci fermiamo sindaco per qualche istante e poi ritorniamo in diretta tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Cagli Alberto Alessandri sindaco partiamo dall'autovelox insomma su questa macchinetta ci sono state tante polemiche tantissime anche le multe ora c'è una gara in corso per affidarlo ad un nuovo fornitore giusto? Sì 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 è partita a febbraio dell'anno scorso e partita vabbè mi ripeto è partita per la sicurezza di quella di quel tratto stradale dove negli anni purtroppo ci sono state tante vittime e tanti tanti incidenti su indicazione chiaramente dell'ANAS della prefettura perché è una zona un tratto stradale pericolosissima abbiamo installato con una gara questo autovelox chiaramente i primi mesi sono stati importanti dal punto di vista delle sanzioni perché come tutte le cose infatti quando si fanno i paragoni bisogna essere onesti bisognerebbe prendere lo stesso periodo di installazione perché inutile prendere un autovelox che funziona i primi quattro mesi da un autovelox che sanzioni ogni cento passaggi ha poco più di una adesso perché la gente ha capito va piano non ci grazie a dio ecco facendo i debiti scongiuri in due anni non ci sono stati incidenti e chiaramente le sanzioni sono crollate noi nel frattempo abbiamo deciso di fare un'altra gara perché onestamente non si aspettavano quei numeri all'inizio quindi subito siamo partiti per fare una gara più ampia dove le condizioni sono diverse e avendo numeri diversi possiamo anche ottenere appunto dai gestori condizioni migliori e quindi con più bassi costi per per chi purtroppo verrà sanzionato ecco rimangono però in piedi alcuni ricorsi al giudice di pace alcuni rimangono in piedi questi giorni se ne sono stati dibattuti mi sembra una quarantacinquantina che insomma non hanno avuto esito io ribadisco sempre la nostra totale fiducia in chi fa questo mestiere e quindi insomma ecco secondo noi non ci sono presupposti per per individuare in quell'autovelox delle criticità e quindi insomma andiamo avanti invece per quanto riguarda gli alloggi popolari si attende alla ditta ancora alloggi popolari sempre abbiamo vinto un bando qualche un paio di anni fa denominato pinqua insieme ad altri otto comuni delle marche un bel progetto è stato della regione che ci ha unito per favorire insomma anche questa questa possibilità di vittoria e comunica gli ha credo abbia avuto un finanziamento attorno al 1 milione 350 e si è in gara in provincia quindi a giorni aggiudicheranno la gara e poi anche lì correre grazie a dio perché è un progetto pnr quindi entro il 2026 deve essere realizzato quanti alloggi sindaco e dove verranno realizzati sono una decina di sono dieci alloggi quindi di diverse dimensioni monolocali bilocali trilocali credo sia anche uno un po più grande e verrà realizzato per intendersi nella venendo da pesaro appena si inizia il paese all'inizio di via lapis che la via più lunga di cagli dove vicino alla chiesa di san domenico e per noi molto importante perché anche un modo per far rivivere il centro storico importanti anche i lavori che riguardano la cittadella dello sport ad acqua viva anche lì insomma i campi quale qual è il punto un'altra sfida questa è un po più lunga purtroppo anche se stiamo andando avanti anche lì abbiamo c'è stato consegnato il progetto esecutivo di una palestra dove che sarà destinata un po tutti gli sport ma prevalentemente al calcetto il cui costo una presta che si aggira attorno ai 650 mila euro quindi mini palazzetto molto carino e abbiamo l'esecutivo quindi la provincia si farà la gara i primi subito dopo le vacanze di natale primi di gennaio e abbiamo completato il lavoro al campo in erba abbiamo completamente rifatto abbiamo messo dentro tutto il sistema di irrigazione moderno attuale con delle cisterne che insomma finiti i lavori saranno utilissimi per per l'uso dell'acqua e e quindi sempre in chiave di sostenibilità abbiamo fatto un bel lavoro adesso stiamo andando avanti con altri bandi cercando sempre di poter risparmiare quindi insomma ecco laddove è possibile accedere a qualche bando a intercettare dei fondi ecco ne siamo ben contenti guardiamo invece adesso una locandina che riguarda una inaugurazione che c'è stata al museo sui bronzetti anche questo un taglio del nastro veramente importante e che continua a dar vita al museo archeologico della via flaminia sì anche questo sì i nostri guerrieri bronzetti e che sono in ancona al museo di ancona e l'originale sono lì chiaramente quindi questo si tratta di una di un'installazione è un riprendersi in maniera immateriale installazioni digitali digitale esatto quindi siamo però insomma crediamo che questa no crediamo siamo convinti anche perché lo sta spingendo non è Cagli ma è tutto il mondo che sta andando verso questa direzione insomma avere queste opportunità è importantissimo al di là del fatto che arricchisce il nostro museo della via flaminia ma è importante perché ci permette poi insomma di essere ecco questa storia dei bronzetti i nostri guerrieri diventa ridiventa la nostra e la possiamo raccontare nel nostro territorio a casa nostra mettendoci quella passione quell'amore che è classica di chi no la storia in qualche modo la vissuta se la sente propria allora non saranno le 100 storie raccontate in un grande museo ma le nostre saranno storie vere che credo che il turista si porterà a casa con più passione tenendole dentro più tempo sarà sicuramente così invece in teatro quando partiranno i lavori di efficientamento? il teatro sono stati aggiudicati i lavori la ditta quindi c'è la ditta che ha vinto l'appalto e verranno subito l'8 gennaio scusami l'8 gennaio abbiamo incontrato la ditta e quindi l'8 gennaio partiranno il 20 mi sembra che firmerà il contratto anche lì attorno e l'8 gennaio partiranno quanto tempo ci vorrà sindaco? il teatro 4-5 mesi e quindi rimarrà chiuso? dipende molto dal padrone insomma se il tempo ci permetterà di lavorare subito dobbiamo rifare il tetto e poi tutti gli infissi ma la parte più importante è il tetto se riusciremo a fare il tetto in poco tempo poi dopo lì si corre veloce quindi comunque rimarrà chiuso anche per motivi di sicurezza? sì per circa 4 mesi noi confidiamo di riaprirlo per sì assolutamente chiuso questo non ci è permesso e confidiamo insomma ecco di riaprirlo per mettere la disposizione di Pesaro Città della Cultura 2024 dove Cagli approfitto ecco assolutamente sì se posso una settimana sarà dedicata appunto ai vari comuni della provincia noi avremo la settimana di aprile dedicata a nostra specifica ma insomma tutta l'amministrazione insieme a tutto il consiglio ha deciso di investire molto su questa possibilità che Pesaro ci regala e siamo in contatto in filo diretto continuo tra il nostro assessore vice sindaca Benilde con Vimini, con il vice sindaco di Pesaro con tutta la struttura che gestisce appunto e organizza Pesaro Cultura 2024 noi ci crediamo molto ci siamo messi a disposizione ci abbiamo messo ingenti risorse sia economiche che di personale che proprio di studio abbiamo coinvolto tutto il paese ogni associazione avrà il suo spazio quindi non durerà una settimana ma durerà veramente qualche mese in più speriamo che si vada anche oltre perché il nostro messaggio vuole essere proprio quello di un collegamento perché quando si parla di cultura non si parla di evento da 10.000 persone oggi e domani zero ma si parla di un cambiamento si parla di mettere nella gente un modo diverso di pensare un modo nuovo un modo al passo coi tempi quindi ecco un cambio culturale che richiederà tempo e speriamo poi duri nel tempo quindi apprezzare i nostri luoghi Nel frattempo si pensa anche alle iniziative di Natale anche qui dobbiamo avere una locandina Natale a Cagli 8, 9, 10, 16, 17 dicembre tante le iniziative messe in campo Sì, l'ufficio cultura ha voluto appunto ha voluto dare come titolo rinascimento e sarà molto concentrata nelle giornate del 7, 8 e 9 dicembre quindi venerdì, sabato e domenica prossima e 8, 9, 10 dicembre e poi avremo anche il weekend successivo abbiamo cercato di essere in armonia con i negozianti perché poi il fine ultimo deve essere quello che la gente vada nei nostri negozi si possa respirare un po' d'aria di serenità, di felicità molto centrato sui bambini perché crediamo che sia la via giusta per dare gioia a tutti i bambini sono veicoli naturali di gioia quindi vogliamo questo e aspettiamo fiduciosi e anche qui abbiamo fatto tutti i sforzi necessari poi ecco anche Cagli l'inverno ancora da noi ogni tanto lo fa e quindi vedremo poi dovremo avere anche la fortuna di avere giornate belle Sindaco siamo in chiusura un'ultima domanda lei ha il suo secondo mandato prossimo anno lezione amministrativa appunto 2024 il suo futuro qual è? che cosa farà? si rimetterà in gioco qualora insomma arrivasse questa possibilità in base al numero di abitanti? c'è questa voce che gira un tantam che gira ormai da mesi di fare questo terzo mandato allora io credo che sia giusto al di là di tutto credo che sia giusto che passi ma non dovrebbe passare solo per tre volte ma anche di più perché insomma noi sindaci siamo eletti dal popolo quindi non è mestiere il nostro se non facciamo bene andiamo a casa se fai bene rimani e in più in questo momento storico dove abbiamo parlato di bandi abbiamo parlato di scadenza abbiamo parlato di tante cose in piedi si siedono tanti progetti con tanti progetti cambiare così in corsa come potrebbe avvenire per alcuni paesi potrebbe essere equivalere a perdere dei denari e perdere momenti importanti e quindi credo che sarebbe giusto al di là del caso mio o di qualche mio collega e nel mio caso io come sempre ho un gruppo di amici di persone con le quali collaboro con le quali mi confido ci scambiamo le idee se sulla mia figura saranno ancora d'accordo che non ho dato noi abbastanza la posso dare ancora per cinque anni scende in campo perché no? è faticoso è molto faticoso adesso non è per dire non faccio il muratore non è fisica ma mentalmente affrontare il covid affrontare le alluvioni affrontare la crisi insomma economica non è per niente facile per un sindaco è anche una grande responsabilità di grande responsabilità e di grande bisogna essere vicini alla gente per essere vicini alla gente bisogna stare sempre con la gente tutto il giorno quindi rinunciare a molto a cose belle della propria vita non è facile però ecco ribadisco se mi chiederanno di rifarlo gli amici di sempre perché no abbiamo una domanda poi chiudiamo sono uno dei tanti proprietari di case su a Monte Petrano gli vorrei chiedere al signor sindaco se la ritiene una cosa possibile asfaltare le tre vie dove sono ubicate queste casette dal 1970 ci scrive il telespettatore in cui insomma non si capisce bene anni in cui sono state costruite che non si riesce ad avere una strada decente quindi è dal 70 sostanzialmente che non viene assaltata io conosco bene il Monte Petrano e sì ci sono queste c'è la strada principale poi ci sono tante villette tante abitazioni e ci sono queste vie insomma che sono in breccia noi gli diamo una sistematina per renderle dignitose all'inizio dell'estate poi purtroppo abbiamo avuto dei periodi un po' più bui per il Monte Petrano insomma dove la gente andava un po' di meno adesso grazie a Dio un po' d'anni che ha ripreso immensamente c'è tanta gente il comune stesso la mia amministrazione abbiamo investito abbiamo partecipato a un bando più di 100.000 euro che abbiamo vinto abbiamo investito sul Monte Petrano proprio oggi discutevamo insieme ai miei colleghi di insomma aderire a dei fondi per la montagna da destinare oltre che al Cate e al Nerone anche al Petrano e ad altre realtà qui c'è grande attenzione l'impegno che posso prendere con il telespettatore che sicuramente conoscerò perché sul Monte Petrano ci sono nato e ci sono cresciuto e ci vado spessissimo l'impegno che posso prendere di asfaltare magari no perché non so neanche bene le leggi se lo consentono come è messa la cosa però di tenerle bene 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 già dai primi insomma dai primi anche perché lo posso dire stasera abbiamo avuto ci è stata giudicata una tappa della Tirreno Adriatico del prossimo anno che è quella mi sembra del 9 marzo 8 o 9 marzo adesso non mi ricordo il giorno preciso ma è la tappa un po' più importante di sabato che arriverà sul Monte Petrano tempo permettendo quindi sarà un motivo anche per tenere bene le strade e mettere a posto già da marzo quelle insomma che portano alle villette quindi questo è un impegno che prendo e dare anche come sempre una bella visibilità a tutto il territorio certo il Monte Petrano è la sua fine è il ciclismo è una tappa è una meta è una tappa poi da quando abbiamo dedicato c'è un monumento dedicato a Scarponi per le vittime su strade del ciclismo a Michele Scarponi un grandissimo atleta un grandissimo uomo soprattutto un grandissimo ciclista e quindi insomma veramente lì ci sono tante 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 persone che vengono allora noi quando possiamo lo valorizziamo perché è giusto così Sindaco grazie per essere stato nei nostri studi grazie a voi e alla prossima buon Natale e buone feste a tutti buone festività anche lei grazie come sempre alla nostra regia e noi ci vediamo tra poco per il telegiornale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti